Le due giornate sull'intelligenza artificiale e il rapporto con l'informazione secondo me sono dense, importanti, io ho imparato, in realtà questo è un mestiere dove si impara sempre, i giornalisti arrivati non sono giornalisti, sono tendenzialmente quelli che vivono di relazioni, di rapporti, di consenso acquisito attraverso altre strade. I giornalisti hanno una missione costante che è quella della ricerca, come diceva Sant'Agostino, quella del dubbio, quella che ci porta dietro l'ascolto e l'apprendimento continuo su ogni materia. L'intelligenza artificiale è uno strumento, è uno strumento nuovo, vent'anni fa c'erano i blog dopo internet, allora qualcuno diceva adesso con i blog finiranno i giornalisti, la disintermediazione eccetera eccetera. Giornalismo investigativo, giornalismo di qualità, fatto di interviste, fatto di racconto di notizie, fatto di interviste fatte bene, fatto di reportage sul campo, fatto di investigazione, cioè di sotterrare la verità che il potere ammanta di falsità, quello esisterà sempre. E' chiaro che noi abbiamo bisogno di nuovi strumenti, semmai anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, l'utilizzo e il racconto dell'intelligenza artificiale, chi c'è dietro l'intelligenza artificiale, come il decisore pubblico interviene per dirimere le questioni, per porre delle regole. Per questo c'è bisogno di più giornalismo, giornalismo di qualità che l'intelligenza artificiale in nessun modo ostacolerà, ma semmai può essere di aiuto, come l'aiuto ad esempio nell'elaborazione dei dati, nella rielaborazione di alcuni documenti, con una verifica che deve essere sempre continua e costante da parte del giornalista. Quindi il giornalismo investigativo non muore, gode di un nuovo strumento, uno strumento che deve essere utilizzato per l'interesse pubblico, perché noi dalla fissione nucleare del gruppo di Panisperna e di Enrico Fermi fino alle scoperte di internet, spesso poi gli usi sono per ragioni militari e per gli interessi di pochi o dei padronati. Noi dobbiamo fare in modo che anche questo strumento venga utilizzato per le persone, per la gente, nel caso nostro per aumentare conoscenze e conoscenze di qualità. Mi porto a casa delle riflessioni interessanti, anche quelle che magari durante il flusso della quotidianità non avevo considerato l'impatto che può avere l'intelligenza artificiale sul mio lavoro, ma anche le opportunità. Io sono una reporter, lavoro solo sul campo, quindi intervisto le persone, racconto i fatti, anche in questo momento e soprattutto i teatri di conflitto. L'aspetto dell'intelligenza artificiale nel mio caso coinvolge i temi della cyber sicurezza, della cyber war e tutte le possibili implicazioni che potrebbero avere sui cittadini. Ovviamente non è un lavoro al momento almeno sostituibile con l'intelligenza artificiale, ma sicuramente mi potrà aiutare ad esempio nella traduzione di testi, nella traduzione di interviste e mille altri aspetti nella elaborazione di documenti e ricerche. Adesso ad esempio sono in fase di progettazione per un nuovo libro e sicuramente sotto alcuni aspetti potrà aiutarmi a deciferare dei dati che magari altrimenti sarebbe complicato fare o comunque mi ci vorrebbe molto più tempo. Uno dei grandi problemi aperti dalle intelligenze artificiali generative è quello del consumo energetico che queste richiedono per poter fare questa enorme mole di calcoli che necessita un algoritmo di intelligenza artificiale. Si stima che la domanda energetica di Google, Microsoft, delle grandi corporation che stanno alimentando questi sistemi abbia una crescita esponenziale nei prossimi anni. Degli studi scientifici dicono che nel 2027 i server di Google consumeranno come un intero paese europeo più o meno delle dimensioni della Danimarca o del Regno Unito e addirittura che nel 2050 questa crescita aumenterà di circa mille volte rispetto ad oggi. Questo pone dei problemi sia in termini proprio di consumo di energia sia in termini di consumo di risorse idriche perché questi server hanno bisogno di essere raffreddati e vengono raffreddati molto spesso con acqua potabile che chiaramente, come sappiamo, scarseggia e scarseggerà sempre di più con i cambiamenti climatici nei prossimi anni. L'intelligenza artificiale rappresenta una grandissima opportunità ma presenta anche molte sfide. Sono sfide collettive, non riguardano gli individui e come tutte le sfide collettive vanno affrontate con delle politiche pubbliche. È importante che le autorità pubbliche, che il pubblico, l'opinione pubblica in generale, si interessino di come l'intelligenza artificiale viene costruita e di come viene utilizzata affinché ci sia da un lato una legittimità politica rispetto agli strumenti che vengono implementati, spesso anche con finanziamenti pubblici, e dall'altro ci sia sempre un controllo del pubblico su quelle che possono essere le evoluzioni della tecnologia in generale e gli utilizzi sia pubblici che privati, perché questi utilizzi hanno un impatto forte sulla nostra vita. L'intelligenza artificiale è utilizzata oggi in ambito di sicurezza, in ambito militare, è utilizzata anche in ambito medico, in ambito di valutazione anche delle prestazioni di lavoro, viene utilizzata per esempio anche per predire i crimini o per predire il tasso di recidività delle persone che sono in carcere e quindi per determinare chi può beneficiare di misure alternative. Quindi ha un impatto fortissimo sulla vita di tutti i giorni e chiaramente rispetto a questo impatto, rispetto alle sfide e alle criticità che questo impatto presenta, è necessario che da un lato ci sia un'attenzione pubblica e che dall'altro però ci sia anche una decisione pubblica. È necessario che la politica prenda delle decisioni in coerenza con il dettato costituzionale e con i valori dei nostri regimi politici. L'intelligenza artificiale può essere considerata il momento culminante di un processo di digitalizzazione della società in cui siamo immersi da una ventina d'anni o anche di più. Le tecnologie digitali non sono neutre ma incorporano tutta una serie di valori ed interessi e sono destinate ad avere un impatto sempre più rilevante sulla nostra vita in quanto poi influenzeranno il modo in cui decidiamo e anche le decisioni che vengono prese su di noi. Perciò è fondamentale che noi formiamo le competenze e le conoscenze per essere da un lato capaci di capire quali sono le conseguenze delle scelte tecnologiche che facciamo oggi e dall'altro lato essere capaci di iscrivere all'interno di queste architetture tecnologiche le regole e i principi a quale vogliamo attenerci. Le intelligenze artificiali si basano su un addestramento, su una grande mole di tattiche che in gran parte provengono dalla nostra attività sociale e per cui è fondamentale essere sicuri che questi dati non riproducano e amplificano discriminazioni già presenti nella nostra società e dall'altro lato che questo processo non si risolva in una estrazione di ricchezza da parte di poche corporation che prendono un bene pubblico nell'interesse di un privato. Sicuramente il tema dell'impatto sulla popolazione, diciamo così, di quelli che sono gli effetti dell'intelligenza artificiale, sono un argomento che pone al centro l'etica nel senso che l'intelligenza artificiale deve essere utilizzata nel rispetto, parliamo del mondo del giornalismo del principio di accuratezza della notizia, della verifica della notizia, dell'imparzialità della notizia facendo esercitare maggiormente un pensiero critico a chi elabora l'informazione in modo tale che accanto al nostro pensiero intuitivo, al nostro pensiero analitico di giornalisti possiamo cercare di dare un prodotto legato all'informazione che possa rispettare i canoni della correttezza. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!